Il primo successo esterno della stagione porta alla firma di Giuseppe Giovinco, colpo di testa al tredicesimo del secondo tempo su assist di Belloc e il Taranto espugna il Romagnoli di campo basso conquistando tre punti importanti contro una diretta concorrente per soltanto sette minuti e il Taranto passa in avvantaggio, l'assist di Belloc in campo da pochi minuti per la testata di giustezza del numero 32 Rosso Blu Giuseppe Giovinco, primo gol del campionato e prima vittoria dei Rosso Blu.